Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, io spero che oggi mi sentiate bene perché tante di voi mi hanno detto che ultimamente sentono poco i miei video ma perché registro con il cellulare e se parlo a voce bassa probabilmente il microfono del cellulare non riesce a catturare bene la mia voce quindi oggi cercherò di parlare a voce alta e così spero che mi sentiate, insomma, fatemelo sapere magari nei vostri commenti Allora, nel video di oggi vi voglio parlare di un'uscita interessantissima secondo me per quanto riguarda Shaka Sto parlando di 6 nuovissime body mist, acque profumate per il corpo super fresche, super fruttate, fiorite, agrumate ma soprattutto super super low cost Allora, ve le faccio vedere subito Partiamo dalla prima Allora, qual è innanzitutto la particolarità di queste body mist? Queste body mist hanno al loro interno tantissimi micro glitter quindi quando noi li andiamo a spruzzare rilasceranno, oltre ad una profumazione pazzesca anche questi micro glitter sono argentati malgrado le colorazioni delle body mist siano tutte diverse però i glitter sono tutti argentati cosa importante, non sono eccessivi io le ho già usate, le ho provate sia di giorno che di sera e sono stupende perché rilasciano questi glitterini e quindi quando ci muoviamo, insomma, rilasciamo questa luce, questo bagliore secondo me per le sere d'estate è veramente fantastico sono uscite 6 fragranze, io di queste 6 fragranze ne ho prese ben 5 me ne manca una, ma perché non l'ho più trovata, della versione alla rosa che ha una profumazione buonissima il costo di queste body mist è di 7,99€ e le ho comprate io ovviamente, e Shaka è un marchio che potete reperire da OVS ma credo che ci sia anche qualche coin probabilmente che ce l'ha comunque, è un brand che si trova appunto da OVS allora, la prima che vi faccio vedere è questa e si chiama Summer Splash questa è una fragranza molto molto agrumata molto fresca, con credo fiori d'arancio appunto e agrumi ed è la versione agrumata quindi molto fresca, che sa di fiori d'arancio, molto delicata ovviamente, ragazze, sono delle body mist non hanno una persistenza pazzesca quindi, io per una, due ore riesco a sentirle addosso dopodiché, ovviamente, le devo rispruzzare ma il bello di questi prodotti è proprio il fatto di poterli portare in borsa perché comunque il flaconcino è assolutamente in plastica quindi non è pericoloso portarlo con sé e poterla rispruzzare durante l'arco della giornata vi dico subito che sono dei prodotti che contengono alcol quindi, assolutamente no durante l'esposizione al sole e assolutamente no sui capelli se poi non avete particolari problemi di sensibilità di irritazione, insomma, potete abbondare sul corpo e vi stavo dicendo, sono dei formati da 200 ml e costano 7,99 euro quindi questa è la Summer Splash della versione agrumata poi ho preso questa che si chiama Coco Spritz e, insomma, i packaging sono molto, molto carini deliziosi, quindi anche molto carini come idea regalo questa è la Coco Spritz ed è invece una versione di cocco fiorita perché io ci sento moltissimo anche la Gardenia quindi è un cocco floreale, meno cremoso e comunque molto, molto fresco e molto, molto estivo ed è delizioso anche questo e anche se vedete la colorazione dorata della Body Mist anche i glitterini comunque sono sempre alcuni sono argentati forse alcuni sono dorati dipende da come viene riflessa la luce ma sono comunque impercettibili e molto delicati poi questa non me la sono lasciata sfuggire perché è spettacolare questa si chiama Yuzu Twist guardate che colore stupendo invece questa è la versione più, come dire, ancora più fresca più estiva perché qui abbiamo pera e lime e la profumazione è pazzesca perché si sente tantissimo ma proprio tantissimo la pera e poi questa nota delicata no, delicata questa nota aspra, scusate, del lime assomiglia moltissimo proprio alla profumazione di un cocktail estivo e il colore è veramente fantastico proprio riprende il colore sia della pera che del lime poi ho preso questa versione invece che si chiama Tropical Kiss e allora credo che anche qui questa dovrebbe essere una pera perché non c'è scritto insomma quali sono le profumazioni sono da dedurre in base alle immagini quindi questi sicuramente sono dei fiori non riesco a capire che fiori sono sembrerebbero delle rose e poi questo sembrerebbe il fiore della passione ma proprio annusandola io ci sento tantissimo proprio il Fruit Passion questa è molto molto fruttata molto molto fresca e mi piace veramente tantissimo l'ultima invece che ho preso che ho acquistato e che ho dovuto aspettare perché era quella che è andata sold out subito ed è meravigliosa è la Coco Dream a parte il colore che è stupendo questo turchese veramente strepitoso e la Coco Dream invece è la versione tra tutte quelle che ho preso la versione più cremosa per intenderci è la classica profumazione proprio delle creme solari perché sa più di latte di cocco ecco latte di cocco quindi più dolce più cremoso quindi è una versione molto molto più cremosa e delicata e mentre per quanto riguarda la persistenza tra quelle che ho acquistato quella che avverto di più che sento di più e che dura di più è sicuramente questa la Coco Spritz questo connubio tra il cocco e questi fiori di gardenia la fanno risultare molto molto più persistente questo è un video oggi brevissimo perché ve le volevo fare assolutamente vedere ve le avevo mostrate su Instagram e tante di voi mi avevano chiesto appunto dove le avessi trovate quindi queste acque profumate vi ricordo sono 6 io ne ho prese 5 mi manca quella alla rosa che è stupenda e 7,99€ le trovate appunto da OVS perché credo che Shaka non abbia nemmeno lo shop online cioè c'è il sito c'è la possibilità di visionare i prodotti però in concreto io online non saprei assolutamente dove poterli reperire io riesco a trovare appunto questi prodotti soltanto da OVS ce ne sono di tantissime altre tipologie da OVS io ho visto che qui da me è pieno di acqua per il corpo sia con i glitter che senza glitter e quasi tutte con profumazioni molto tropicali quindi perfette per questa stagione queste sono carine perché avendo all'interno i glitter sono deliziose anche da indossare con la bronzatura sulla bronzatura nelle sere d'estate perché ci danno quel tocco di luce in più detto ciò le profumazioni sono strepitose meravigliose vi dico già che durano poco sono delle body mist quindi insomma non ci aspettiamo delle grandi persistenze ma insomma sono carine da portare in borsa e potersi risfruzzare durante l'arco della giornata dunque ragazze il video finisce qui era una cosa proprio brevissima perché ve le volevo far vedere quindi fatemi sapere magari se le trovate se ne acquistate insomma spero che il video vi sia stato in qualche modo utile vivando come sempre tanti bacini e se vi va ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao